Colpo grosso del Terranova Traiana che spugna il terreno dello stadio Ripini di Foiano nella partita più importante della domenica. In eccellenza vittoria pesantissima per la squadra di Becattini che rilancia le sue quotazioni anche nella prospettiva per la vittoria finale. Da questa sera la classifica è decisamente positiva per i biancorossi. Il gol partita matura il ventinovesimo e porta la firma di Marini che sfrutta alla grande una opportunità costruita dal brillantissimo Ceppo Domo. Il Foiano fino a quel momento era imbattuto in casa mentre per la squadra valdernese era necessario dare continuità ai risultati. Non è bastato una buona ripresa per la formazione di Pippo Zacchei. Il Terranova Traiana ha controllato in maniera agevole il match portando in Valdarno tre punti preziosi. E domenica arriverà a Terranova il Siena. La partita non necessita di ulteriori presentazioni.